Giocano d'anticipo i commercianti di via Bellini e Rossini riguardo alla prossima edizione della Barcolana. Lo sguardo in avanti però è segnato dalla preoccupazione, quella di ritrovarsi un cantiere in pieno svolgimento durante i giorni della Coppa d'autunno davanti al proprio locale. A questo punto il malcontento è palese dovuto dal probabile minor flusso di persone ostacolate dai lavori. E' chiaro che avere dei cantieri durante la Barcolana fa danni, è uno dei momenti che veramente i nostri locali hanno più soddisfazione e quindi avere delle problematiche davanti crea dei problemi. Quindi io penso che il Comune di Trieste con tutte le esigenze che possa avere il Comune di fare i lavori può aspettare benissimo dopo l'8 di ottobre per fare i lavori. E' chiaro che quando i lavori saranno fatti i benefici verranno per tutti. Però si sta parlando di 30-40 giorni, non è che stia parlando di mesi, quindi il Comune può aspettare dal mio punto di vista dopo la Barcolana. La risposta del Comune di Trieste è affidata a un post pubblicato su internet dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi che ricorda come l'attenzione sul tema è incessante grazie a incontri con i tecnici e sopralluoghi assieme al Sindaco per trovare una soluzione che accontenti tutti.